Salve ragazzi cari amici da web, sono Andrea Bruno, quest'oggi sono qui per parlarvi di un tema di grandissima attualità di riforme e di sistema elettorale un tema che concerne tantissimo col concetto di democrazia incomincio subito con una introduzione vogliate scusarmi per il mio italiano, io sono vent'anni che vivo all'estero dove praticamente di fatto non ci sono italiani e ho modo di parlare l'italiano solamente in questi monologhi molte parole, molti termini me li sono dimenticati, faccio fatica a ricordarmi per cui vogliatemi scusare la grammatica e anche se sbaglio qualche parola, perdonatemi non è su questo che bisogna concentrare la propria attenzione vi voglio parlare di un tema che tutti noi abbiamo il concetto di democrazia lo sappiamo perché ci viene insegnata a scuola però tante volte vediamo i fatti scorrere come guardiamo da un finestrino di un treno li prendiamo questi fatti per buoni però senza andare a fondo nell'argomento il concetto di democrazia prevede una netta distinzione dei tre poteri fondamentali dello Stato legislativo, esecutivo e giudiziario quando noi abbiamo una persona, capo del governo, capo di uno Stato che ha una certa ingerenza nei poteri che non gli competono abbiamo una dittatura affermata questo è il caso per esempio nel Brunei dove nel Brunei abbiamo un capo di Stato, abbiamo un sultano che detiene i tre poteri fondamentali dello Stato più il quarto potere che è quello di essere anche leader religioso questo è il culmine della dittatura è importante sapere che questi tre poteri in uno Stato che si definisce democratico debbano essere nettamente divisi non ci deve essere ingerenza non può per esempio un membro dell'organo legislativo dare ordine di arrestare qualcuno perché è una cosa che non gli compete oppure non può un poliziotto giudicare il ladro questo casomai sarà il giudice a giudicarlo il poliziotto farà il suo lavoro poi dopo nel merito ci sarà la persona di competenza ecco, vi ho un po' fatto rimembrare alcuni concetti che già voi sapevate e adesso sono importanti per analizzare quello che sta avvenendo in questi giorni Matteo Renzi, lui chi è? lui è il presidente del Consiglio per cui lui è il massimo rappresentante dell'organo, dell'esecutivo del paese per cui cosa ne rappresenta un Matteo Renzi che si prefigge come lui il fautore quello che porta avanti la riforma elettorale questo aspetta esclusivamente in un paese dove non ci sono ingerenze all'organo legislativo del paese per cui un Renzi che si occupa di queste cose e porta a sé tutti i suoi scagnozzi è il cosiddetto dittatore di turno possiamo dire il cosiddetto Gheddafi di turno non so con la differenza che Gheddafi gli voleva bene al suo paese non mirava sicuramente a distruggerlo e consegnarlo alle ingerenze estere per cui ad un certo punto noi ci siamo trovati con un capo un primo ministro che si è prefisso di fare un qualche cosa che in uno stato democratico non gli compete tanto più lui lo sta facendo anche in un contesto unilaterale ovvero lui simboleggia colui che si sta vestendo con un abito fatto di propria sua misura per cui abbiamo l'apoteosi del volere un sistema dittatoriale un altro luogo Matteo Renzo sentito nei suoi discorsi lui punta tanto sulla governabilità un sistema che riesca a far risultare una grandissima un qualcosa che abbia una grandissima governabilità prima di tutto non si va alle elezioni per avere la governabilità perché questo è sinonimo di dittatura l'avere la governabilità costi quel che costi l'avere la governabilità ovvero poter decidere in maniera unilaterale senza avere un contrasto che ti possa in qualche modo schiodare lì dal cadrino è il sinonimo sinonimo della dittatura scusatemi mi sbaglio con la parola sinonimo perché dovevo io si dice sinonimo con le lettere avvertite un'altra cosa che vi volevo dire sempre ritornando a Matteo Renzi è che lui è evidente che sta creando un qualche cosa per far sì che la casta rimanga roccata nel castello hanno sentito il sentore che comincia questa ondata da parte del popolo di voler riacquistare la sovranità popolare in effetti l'articolo 1 della Costituzione stabilisce che il popolo è sovrano ma infatti sarebbe più autorizzato il popolo a creare una legge elettorale ovvero dovrebbe esserci la proiezione del popolo perché noi abbiamo l'articolo 1 della Costituzione che dice che il popolo è sovrano per cui in quelle poche questioni dove si parla di sovranità dello Stato il popolo dovrebbe essere interpellato so qualcuno ogni tanto dice però nella Costituzione italiana non è previsto che il popolo usi l'arma referendaria proponitiva sticarsi che non è previsto perché se l'articolo 1 dice che il popolo è sovrano in alcuni casi rare eccezioni però nell'ambito, nella sfera della sovranità il popolo è tenuto a esprimere la sua in qualità di sovrano se no che sovranità del popolo c'è c'è solamente formale per cui, per esempio noi abbiamo ceduto la sovranità monetaria chi ha firmato quella cessione? l'ha fatto sicuramente contro la nostra Costituzione perché la moneta sovrana è un elemento della sovranità nazionale per cui, in qualche modo, ci deve essere un meccanismo che sia il popolo a decidere sarà un referendum, sarà quello che vuoi però se il popolo è sovrano è sticarsi che la nostra Costituzione non prevede di dare quest'arma al popolo no, perché l'articolo 1 lo prevede sì in tutti i casi possibili però quando si parla di sovranità nazionale l'articolo 1 della Costituzione è chiaro il sovrano che è il popolo per cui tutti questi politici che ci hanno consegnato in mano alla Troica in mano a Barroso Van Rompuy e questa gente qua hanno firmato tutte delle carte che non hanno alcun valore giuridico perché non hanno alcun valore giuridico? perché in quel momento loro non erano pleni potenziari ovvero non erano dalla nostra Costituzione quelle persone disegnate nel poter prendere questa decisione perché la decisione circa gli elementi della sovranità stando alla nostra Costituzione spettano al popolo per cui anche il voler fare una legge non sta di certo a Matteo Renzi lui non è neanche il rappresentativo dell'organo legislativo assolutamente no lui è l'esecutivo per cui noi ci siamo trovati di fronte a un movimento 5 stelle che va a cercare un dialogo con una persona che in realtà è un dittatore messo lì che si vuole fare un abito su misura ma non sarebbe lui quello che dovrebbe decidere il movimento 5 stelle ha fatto al suo interno un qualche cosa che è molto simile a quello che dice la Costituzione ha chiesto ai cittadini come deve essere fatta la legge elettorale ma questo non basta tutte le forze politiche io direi tutta l'Italia non all'interno del movimento 5 stelle ma all'interno delle nostre istituzioni dovrebbe in qualche modo con qualche meccanismo che dovrà essere individuato stabilire come dovrà essere la legge elettorale stando nel rispetto della nostra Costituzione questo è quanto è quello che vi volevo dire però c'è un altro argomento che concerne sempre questo tema qua noi abbiamo in questo caso qui stiamo andando contro una vera dittatura se verrà compiuto quello che si sta compiendo che tutti noi vediamo sotto gli occhi ci ritroveremo lì esattamente come una dittatura può essere che non sarà una dittatura nazista o comunista sarà pur sempre una dittatura e le dittature non vanno bene perché vi dico questo? perché Renzi lui punta tanto l'accento sulla governabilità però un sistema in cui delle persone a qualsiasi costo che vengono elette perché sei costretto ad eleggere con ampio consenso quelle persone un sistema che apparentemente è democratico ma nella realtà non lo è è un sistema che ti porta ad una dittatura nella realtà non devono essere i cittadini obbligati a scegliere un manipolo che sono lì a prescindere a governare dobbiamo avere al governo e anche nel nostro organo legislativo nel Parlamento una rappresentativa di tutti gli italiani per cui di tutte le forze politiche di tutti i movimenti i movimenti e poi ogni singola legge ogni singola proposta è lei che dovrà ottenere la maggioranza un quorum per cui ha più significato andare a stabilire i meccanismi del nostro sistema legislativo ovvero come le leggi devono passare che ottenere una maggioranza a prescindere che abbia la governabilità a priori perché la governabilità a priori a prescindere uguale significa nella nostra equazione stare incollate al cadrero quindi significa anche dittatura ecco scusate un po' il mio italiano so che è una mia pecca vogliate scusarmi di questo ci vediamo alla prossima continuate a seguire i miei video seguitemi su facebook e un saluto a tutti i cari amici che mi seguono agli amici di tutte le forze politiche riflettete su questo perché io so che voi lettori del PD vorreste la governabilità però ve ne va anche a voi perché alla fine se questi qui loro hanno la governabilità a tutti i costi ovvero una dittatura ve lo mettono in culo a tutti quanti anche voi che le avete votate io di certo non le ho votate e non le voto di sicuro però riflettete su queste cose è meglio un sistema che abbia una base democratica devono essere tutte le forze politiche in concertazione che rappresentano la nostra Italia a stabilire quelli che sono come deve essere quelle sono le leggi che devono passare come deve essere il sistema di legiferare all'interno del nostro paese perché un sistema che vuole la governabilità a tutti i costi è contro l'articolo 3 della Costituzione italiana la nostra Costituzione dice anche che tutti i cittadini sono uguali ognuno ha la stessa paridignità sociale non c'è una persona che conta più degli altri se si crea un sistema in cui i cittadini che votano una certa forza politica sono maggiormente rappresentati all'interno delle istituzioni è chiaro che vi è anche una violazione costituzionale non è giusto che io posso un singolo la pensa diversamente da tutti gli altri lui vota il partito viva la gnocca per quella sua proporzione che lui rappresenta in qualche modo dovrà avere una voce in capitolo sarà anche una voce infinitizamente piccola che non conterà nulla però la sua voce non dovrà raccontare nulla ma da qualche parte non dovrà raccontare nulla non è che deve essere segato e tagliato via dalla scena per cui se siamo tutti uguali ognuno ha pari dignità politica il partito lo piccolo quello più grande quello più piccolo ancora ognuno deve avere la propria rappresentativa queste rappresentative in concertazione devono essere capaci di creare leggi che piacciono alla loro maggioranza interna e che quindi abbiano un largo consenso e riescono a passare tutto l'iter per poter essere approvate questo sì non dobbiamo quindi fissarci su una governabilità a priori ma su un sistema che riesca a produrre delle leggi che siano loro il frutto dell'ampio consenso ecco questo è un po' che quello che volevo dire so che qualcuno potrà anche non pensarla come me io vi saluto tutti fate i commenti a questo video e ci sentiamo alla prossima ciao